ciao sono il dottor max della farmamax che si occupa della pubblicazione dei foglietti illustrativi dei farmaci in formato video dove io personalmente vi leggerò i bugiardini in questo video ti leggo il bugiardino del farmaco atrocon farm italia industria chimico farmaceutica srl ultimo aggiornamento 20 luglio 2021 cos'è atrocon confezioni informazioni commerciali sulla prescrizione indicazioni posologia controindicazioni avvertenze speciali e precauzioni di impiego interazioni con altri medicinali e altre forme di interazione assumere trocom durante la gravidanza e l'allattamento effetti sulla capacità di guidare veicoli e sull'uso di macchinari effetti indesiderati sovradosaggio proprietà farmacodinamiche proprietà farmacocinettiche dati preclinici di sicurezza elenco degli eccipienti farmaci esteri cos'è atrocom atrocom è un farmaco a base del principio attivo estriolo appartenente alla categoria degli estrogeni e nello specifico estrogeni naturali e simi sintetici non associati è commercializzato in italia dall'azienda farm italia industria chimico farmaceutica srl atrocom può essere prescritto con ricetta rr medicinali soggetti a prescrizione medica i soggetti a prescrizione medica confezioni a trocom 003 mg 10 ovuli in strip a trocom 003 mg 30 ovuli in strip informazioni commerciali sulla prescrizione titolare farm italia industria chimico farmaceutica srl ricetta rr medicinali soggetti a prescrizione medica classe c principio attivo estriolo gruppo terapeutico estrogeni forma farmaceutica ovulo indicazioni trattamento locale dei sintomi vaginali in donne in post menopausa con carenza di estrogeni posologia posologia durante le prime tre settimane di trattamento viene somministrato un ovulo ogni giorno successivamente si consiglia una dose di mantenimento di un ovulo due volte alla settimana per l'inizio e la continuazione del trattamento dei sintomi della post menopausa deve essere usata la più bassa dose efficace per la durata minore possibile vedi anche paragrafo 4 4 per i prodotti a base di estrogeni per uso vaginale di cui l'esposizione sistemica agli estrogeni è molto bassa non è consigliabile aggiungere un progestinico vedere anche il paragrafo 4 4 modo di somministrazione l'ovulo deve essere introdotto profondamente nella vagina preferibilmente la sera prima di andare a letto dose dimenticata durante l'uso quotidiano nelle prime tre settimane di trattamento se non ci si rende conto di una mancata somministrazione prima del giorno successivo la somministrazione persa non deve essere sostituita in questo caso si dovrebbe riprendere con il solito regime posologico durante l'uso due volte alla settimana se la somministrazione del medicinale è stata dimenticata alla data prevista durante il trattamento di mantenimento di due volte alla settimana la dose persa deve essere somministrata il prima possibile controindicazioni tumore della mammella diagnosticato sospetto passato tumore maligno estrogeno dipendente di diagnosticato sospetto ad esempio tumore dell'endometrio sanguinamento genitale non diagnosticato iperplasia endometriale non trattata tromboembolismo venoso in corso passato trombosi venosa profonda embolia polmonare disturbi trombofilici noti come carenza di proteina c proteina s o antitrombina vedere paragrafo 4 4 malattia tromboembolica arteriosa in corso recente ad esempio angina infarto miocardico malattia epatica acuta o malattie epatiche pregresse finché la funzione epatica non si è ancora normalizzata porfiri e ipersensibilità al principio attivo o ad uno degli eccipienti elencati nel paragrafo 6 1 avvertenze speciali e precauzioni di impiego per il trattamento dei sintomi della post menopausa la tos deve essere iniziata solo in presenza di sintomi che influenzano negativamente la qualità della vita in tutti i casi si deve vedi la scheda tecnica del farmaco rcp completa accedi al sito www.codica.it interazioni con altri medicinali e altre forme di interazione a causa della somministrazione vaginale e dell'assorbimento sistemico minimo è improbabile che si verifichino interazioni farmacologiche clinicamente rilevanti con altro con tuttavia devono essere prese in considerazione le interazioni con altri vedi la scheda tecnica del farmaco rcp completa accedi al sito www.codica.it assumere trocom durante la gravidanza e l'allattamento posso prendere trocom durante la gravidanza e l'allattamento gravidanza trocom non è indicato durante la gravidanza in caso di gravidanza durante il trattamento con trocom il trattamento deve essere sospeso immediatamente i risultati di diversi studi epidemiologici fino vedi la scheda tecnica del farmaco rcp completa accedi al sito www.codica.it effetti sulla capacità di guidare veicoli e sull'uso di macchinari trocom non ha alcuna influenza sulla capacità di guidare di usare macchinari effetti indesiderati all'inizio del trattamento quando la mucosa vaginale è ancora atrofica può manifestarsi un'irritazione locale sotto forma di sensazione di calore dolore barra o prurito ma gli effetti indesiderati sono spesso transitori vedi la scheda tecnica del farmaco rcp completa accedi al sito www.codica.it sovradosaggio la tossicità dell'estriolo è molto bassa è molto improbabile il sovradosaggio con trocom i sintomi che possono verificarsi nel caso di una dose elevata ingerita accidentalmente sono nausea vomito e demorragia vaginale nelle donne non esiste un antidoto conosciuto se necessario si deve istituire un trattamento sintomatico proprietà farmacodinamiche gruppo farmacoterapeutico estrogeni naturali e simi sintetici non associati a tc g03 k04 il principio attivo estriolo simi sintetico è chimicamente identico all'estriolo umano prodotto naturalmente nel corpo applicazioni vaginali di estriolo alleviano i proprietà farmacocinettiche assorbimento e distribuzione uno studio farmacocinetico è stato eseguito in donne in postmenopausa con atrofia vaginale diagnosticata al fine di indagare sull'entità dell'esposizione sistemica all'estriolo da il trattamento è stato dati preclinici di sicurezza le proprietà tossicologiche dell'estriolo sono ben note i dati non clinici non rivelano rischi particolari per l'uomo basati su studi convenzionali sulla tossicità a dosi ripetute sulla genotossicità e sul elenco degli eccipienti butylidrossitoluene ricinolato di glicerina acidi grassi saturi macro golce tostiarile etere fonte foglietto illustrativo aifa agenzia italiana del farmaco le informazioni presenti possono non risultare essere aggiornate per avere accesso alla versione più aggiornata si consiglia l'accesso al sito web dell'aifa agenzia italiana del farmaco grazie per avermi seguito fino a qui spero che la parma max ti sia stata utile iscriviti al canale e sarà informato sulla pubblicazione dei nuovi video bugiardini buon proseguimento ci vediamo al prossimo farmaco esaminato